È un tema su cui dobbiamo in qualche modo superare degli stereotipi. Per questo sono particolarmente contento che con il Presidente Errani abbiamo concordato l'avvio di un tavolo di discussione su come la formazione oggi viene realizzata nelle diverse regioni, sia nell'area più pubblica che nell'area parapubblica, direi così, o privata, perché anche qui ci sono tanti stereotipi. L'ho già detto, gli inglesi stanno immaginando di fare una formazione speciale, un'operazione speciale nei prossimi due anni, di riformazione delle persone in cassa integrazione, in mobilità, nei loro strumenti naturalmente. Perché? Perché queste persone hanno perso capitale umano e quindi diventano meno occupabili, meno resilienti, perché dopo che stai uno, due anni, tre anni in un ammortizzatore sociale, sei staccato ormai dal mondo del lavoro, è chiaro che la probabilità, ce lo dicono tutte le analisi, di rientrare è più difficile. Quindi bisogna, è più bassa, e quindi bisogna fare un'opera di formazione speciale. Ma se noi oggi decidessimo di fare una politica di questo tipo, sono sicuro che incontreremmo tanti stereotipi.